allora questo è mio praticare per oggi mi piace parlare italiano ogni giorno ma adesso forse 22 e 50 molto tardi la mia famiglia è dormire 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 to sleep ma come si dice a sleeping dormire dormando forse dormando sono dormando la famiglia sono dormando io usare google traduttore uno momento la mia famiglia sono dormendo la mia famiglia sta dormendo forse il mio vocabolare è piccolo male non lo so allora adesso io beve vino particolare particolare particolarmente prosecco prosecco mi piace prosecco mi piace come si dice pocos 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 mi piace prosecco troppo non troppo non troppo ma molto mi piace molto prosecco è vero davvero si è giusto scusami io ho bisogno parlare con italiani giovani giovani significa young ma giovedì 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 significa thursday giovedì ah certo io parlo l'inglese io nativo l'inglese il mio madrelingue madrelingue la mia madrelingue è l'inglese mi piace l'inglese mi piace l'inglese mi piace l'inglese perché perché è molto facile io ho potuto mi piace l'inglese se l'inglese che è molto facile mi definito definitivo non lo so ma mi piace molto l'inglese mi piace molto l'inglese l'inglese e loro parlare l'inglese ogni giorno. La mia famiglia non sa altre lingue, solo lo sa l'inglese. Ma, bene. Come si dice we can? Possiamo. Possiamo. La mia famiglia e me. Possiamo parlare l'inglese con gli altri. Non lo so. Ma di nulla. Possiamo parlare. Ebbene. Mi piace l'italiano. Io voglio parlare molto italiano. Molto italiano per molti anni. in futuro e in adesso. E mi voglio andare in tutto e in Europa. Perché tutto è in Europa molto bene. E forse. E forse. Stati americani. E forse Hong Kong. E forse altri posti nel mondo. Sì. Il mio andare in molti posti nel mondo. Il mondo è bene. È molto grande. È molto grande. È il mio camminare. Ma non solo camminare. Ma camminare è macchina. Come si dice come come una macchina. In tutto l'Europa. In tutto il mondo. È anche. Uh. Io penso, io conosco parole per flying o fly, ma adesso non ricordo, non ricordo adesso, ma forse in futuro non ricordo, non dimenticato, ah forse in futuro mi ricordo, sì, per oggi, è abbastanza, quindi ci vediamo a volte, ciao ciao.